Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video dedicato al nostro mondo mobile. Prima di andare avanti vi invito a iscrivervi al canale e ovviamente azionare la campanella se volete che vi arrivino le notifiche dei video che posterò in futuro. Detto questo, oggi cosa parliamo? Di un programma molto interessante della iMobile che si chiama Anitransp. È un programma, un'applicazione diciamo che gira su Windows o Mac che ci permetterà di fare un backup generale dei nostri dispositivi iOS, tutto quello che c'è iCloud compreso. Prima di andare avanti, prima di vedere ovviamente questo software cosa fa e spiegare un pochino con il primo episodio quello che vedremo, voglio intanto fare un discorsino piccolo sui backup perché è importante fare un backup dei nostri dati, soprattutto contatti, diciamo eccetera eccetera, i file media, che hai foto che facciamo durante il giorno, durante il mese, durante l'anno, a tutto quello che ci circonda e video compreso. Digliamo in primis, un software come questo può essere di aiuto a tutta quella fascia di utenti che non vogliono ovviamente affacciarsi al mondo cloud, giusto che non fanno backup dei contatti su Google, perché anche con iOS si può fare, non tutti quelli che hanno iCloud che credono in queste piattaforme, che diciamo diffidano ancora un po' di queste piattaforme cloud, che ovviamente è sempre una cosa informatica, è sempre una cosa tecnologica, quindi è vero che c'è un po' di dubbio ogni tanto che si possa anche spegnere un server, possono anche entrare nei server della Apple, di Google, quello che è, e quindi racimolare tutti i nostri dati, compresi i nostri media. Quindi cosa fare per ovviare a questo problema? Innanzitutto io penso che può essere anche un problema, diciamo, di smarrimento di smartphone, di dispositivi mobile in generale e ovviamente anche giattare il nostro dispositivo, qualcuno, buona fede, ci può anche rubare il nostro dispositivo, quindi noi non abbiamo più nulla, ok? A parte tutta quella fascia, compreso io, che usa iCloud, ma però, che non si dice, lo dico lo stesso, è anche utile per chi usa, ok? Un sistema cloud. Quindi questa applicazione qua non fa altro che fare un backup di tutto quello che abbiamo sui nostri dispositivi, compresi foto, media, contatti, backup dai cloud, ottenuto ripristina ovviamente il nostro sistema operativo, fa un sacco di cose, ok? Oltre fare ovviamente molto bene i backup di qualsiasi cosa che abbiamo sul nostro smartphone. Quindi dopo questa bella introduzione andiamo a vedere innanzitutto come scaricarla e ovviamente per provare a utilizzarla in modo gratuito, ma sappiamo che ovviamente di gratuito non c'è nulla, quindi bisogna poi ovviamente pagare una piccola cifretta per poterla utilizzare, ma è a vostro buon cuore se vi è utile o no, intanto potete provarla. Andiamo a vedere come scaricarla. Benissimo cari amici, per scaricare l'applicazione è molto semplice, vi recate su Google e cercate Anitrans e la prima voce è questa. Cliccate sopra, andiamo a finire nel sito ovviamente ufficiale, dove ci inviterà a scaricare la versione per il nostro sistema operativo, oppure andare a vedere i prezzi, ma li vedremo alla fine. Però vi volevo mostrare una cosa, che possiamo ovviamente se il nostro browser non supportasse la funzione automatica, possiamo andare in supporto, in download, e troviamo qui la versione ovviamente per i due sistemi operativi Windows e Mac. Quindi cliccate sulla vostra, scaricatela e installatela. Bene, una volta lanciata l'applicazione ci troviamo nella prima pagina, ovviamente questa è un invito a collegare il nostro smartphone, il nostro dispositivo iOS, ma adesso non lo faremo, lo faremo dopo. Adesso andiamo praticamente a vedere la panoramica dell'applicazione. Nella seconda iconetta troviamo la possibilità di collegarci al nostro iCloud per scaricare anche qui tutti i dati e backuparli sul nostro computer. Poi andiamo avanti, gestire la musica, abbiamo anche addirittura il tasto aggiungi, possiamo aggiungere anche della musica dal nostro computer al nostro dispositivo iOS. E poi andiamo nella sezione della sicurezza dei backup. Iniziamo con il trasferimento da telefono a iPhone, tipo da Android a iPhone o da iPhone a iPhone. Cioè possiamo praticamente copiare tutti i dati, ok? Da un telefono Android al nostro iPhone, oppure da un iPhone a un altro iPhone. Molto utile. Ancora andiamo avanti con i backup, qua invece si parla proprio di backup di sicurezza. Possiamo eseguire un backup con un click, ripristinarlo con un altro click e ovviamente vedere tutto lo storico dei backup che abbiamo eseguito finora. Andiamo avanti con i backup, addirittura possiamo backuppare da WhatsApp, quindi quante volte vi è capitato di resettare il telefono e non avere il backup su iCloud? Qua potete farlo in locale. Ovviamente abbiamo anche gli altri due sistemi di messaggistica. Possiamo anche qui backuppare, ripristinare o vedere anche la cronologia di tutti i nostri backup eseguiti. Ultima parte, la parte creativa, la chiamo così io. Abbiamo la possibilità di convertire tutte le immagini che abbiamo salvato con questo tipo di codec perché tanti smartphone, tanti computer, non leggono queste immagini. Quindi possiamo ovviamente caricare le immagini e convertire con un click. Andando avanti nella parte creativa troviamo la parte della suoneria. Possiamo creare una suoneria per il nostro telefono, ok per il nostro cellulare iOS ovviamente e poi vedremo. Qui si tratta anche di importare, cioè di una possibilità di importare anche un membrano dal nostro computer. Vedremo come fare nei prossimi episodi. Andiamo avanti. La penultima parte riguarda l'installazione direttamente sul nostro dispositivo da applicazioni provenienti dallo store. Quindi possiamo cercare qua dentro delle applicazioni, ok io adesso non sono collegato, ovviamente prima dobbiamo fare l'accesso al nostro ID, e poi Apple e poi possiamo cercare un'applicazione e installarla direttamente sul nostro smartphone che ovviamente è collegato in questo momento al nostro computer. Ultima parte, abbiamo la possibilità di replicare il nostro schermo del dispositivo direttamente sul nostro Windows o Mac. Questo ci dà la possibilità di registrare ovviamente lo schermo proveniente dal nostro dispositivo. Molto comodo, lo proveremo. Un'altra cosa che non vi ho detto, in primis qua ovviamente apparirà, adesso andremo a vedere, il nostro telefono che collegheremo. Bene cari amici, siamo pronti per andare a collegare il nostro cavetto Lightning proveniente dal nostro computer e vedere cosa succede nel software. Vedete che adesso tra poco apparirà il mio XS sulla schermata. A questo punto incomincia a contare tutti i dati presenti, media, ovviamente musica e tutto il resto. Quando smetteranno questi puntini praticamente di pulsare, appariranno i numeri, ok, a seconda dei dati che avete, e il software sarà pronto per essere utilizzato. E vedremo come scaricare alcune foto in questo primo episodio. Bene, una volta che la nostra applicazione ha determinato tutti i nostri dati, vedete che si sono popolati, i numerini sono comparsi, nelle rispettive categorie, quindi abbiamo foto, io libri, applicazioni, eccetera, eccetera. Prima di andare a scaricare delle immagini, qualche video sul computer, per farvi vedere come si fa, in questo primo episodio andiamo a cliccare su applicazioni. Guardate un po' che bello. Una cosa carina è questa, secondo me, che adesso io, per dire, seleziono Filmic Pro, ok, andiamo a vedere se, vedete, compare una cartella, vado a cliccare e all'interno di Filmic Pro compare un video che ho appena girato adesso per farvi vedere perché era vuoto. Quindi cosa determiniamo questo? Che possiamo scaricare questo video, vedete qua, ok, sul Mac, aggiungere un video anche sul nostro Filmic Pro e utilizzarlo come storage. È una cosa molto carina. Poi lo vedremo, ovviamente, quando parleremo delle applicazioni. Torniamo indietro con la freccia e torniamo indietro con l'indietro. Ora, andiamo all'interno delle foto e cosa succede? Qua abbiamo tutte le nostre foto, comprese iCloud. Non vedremo iCloud perché bisogna accedere e io non ho affatto l'accesso, infatti se vado qua mi chiede di accedere, ma adesso non lo faremo, poi faremo una sezione a parte e vediamo cosa possiamo fare. Innanzitutto possiamo caricare le nostre immagini dal dispositivo sul Mac una volta selezionate. Possiamo aggiungere, ovviamente, immagini al nostro dispositivo dal nostro computer e utilizzarlo come storage. Questa funzione, invece, vedete cosa ci dice? che dobbiamo collegare almeno due dispositivi. Cosa sarà? E chi lo sa? Lo andremo a scoprire. Poi, cosa possiamo fare? Possiamo, ovviamente, eliminare, ricaricare e qua, ovviamente, abbiamo visto iCloud. Qua abbiamo le solite due possibilità di, praticamente, di mettere i nostri, e le nostre foto in elenco o a forma di griglia. Ok? Abbiamo da questa parte tutte le categorie che riguardano le foto, gli album, come fosse uguale su il rullino fotografico nel nostro dispositivo. E abbiamo anche le impostazioni qua che ci fanno vedere tutte il repilogo del nostro rullino, compreso iCloud. Tutto quello che abbiamo sotto forma, ovviamente, di categorie. Vedete, selfie, live foto, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, andiamo a caricare un'immagine o una foto, un paio di foto, da qua, ok, dal nostro iPhone XS al Mac. Va bene, carichiamo, scegliamo un paio di foto, ok? Scegliamo queste per dire, facciamo così, una, due, una, due, tre, quattro, cinque, sei, non è uguale, però va bene, così. Ok, su Mac, a questo punto, abbiamo la possibilità di andare a scegliere alcune cose. La prima, l'impostazione del formato di esportazione. Ovviamente possiamo esportare il formato originale oppure esportare il PDF. Non so perché, comunque, lo stesso. Qui invece, cosa ci permette di fare? Al volo ci permette di convertire le foto che sono state scattate con questo codec in JPEG o in PDF. Ancora avanti, abbiamo un altro formato di esportazione, ok? Per l'iFoto, quindi possiamo esportare l'iFoto in modo originale oppure andare a cambiare il formato. Possiamo anche esportare JPEG, quindi verrebbe fuori, ovviamente, una foto unica o cambiare formato. Anche GIF, l'avete visto? Ok. Andiamo avanti. Qui invece si tratta di andare a filtrare. Questo non ho ancora capito. Filtro e foto. Può darsi che sia esportare le foto filtrate. Non so adesso, non ho ancora provato, se col filtro applicato nella fotocamera oppure in questa applicazione c'è un modo per applicare dei filtri, ok, a queste foto. Io penso che si invece esporta solo le foto filtrate. Ah, ecco. Ah, ecco, solo foto filtrate nel senso che quando abbiamo applicato un filtro alla foto o no. Bello, bello, bello anche questo. Ok, poi proveremo. Formato esportazione del video, anche qua, originale oppure li converte tutti in MP4. molto carino perché se abbiamo magari prodotto dei MOV li converte in MP4. Andiamo avanti, ancora qui. Qui invece è formato RAW, molto carino anche questo. Converte al volo dal formato RAW a JPEG. Se vogliamo esportare tutte le foto in formato RAW lasciamo così oppure le nostre foto in formato RAW le possiamo convertire in JPEG. Ovviamente possiamo andare a scegliere un percorso dove andare a caricare le nostre foto. Io vado sul mio dispositivo, il mio hard disk e ovviamente il mio download. Posso creare una cartella qui. Ok, quindi faccio, metto foto XS tanto per avere così un ordine. Vado a crearla. E a questo punto, qui sotto, abbiamo altre opzioni. conserva ovviamente le informazioni. Qui lascerei tutto così. Ricordami, questa non è ancora vista, di configurare. Niente, queste lasciamo tutte così. E andiamo avanti con l'esportazione. Clicchiamo continuo ovviamente per esportare. E l'esportazione dovrebbe iniziare. Ok, parte praticamente lo scarico delle foto. e ovviamente ci propone anche di visualizzare i file. Io vado a visualizzare ovviamente perché mi fido ma voglio sincerarmi. Come vedete ci sono tante cartelle. Ok, questa cosa qui io non l'ho ancora analizzata perché non capisco perché mi ha fatto tante cartelle. forse le ha messe sotto forma di categorie che certe erano live foto certe erano foto normali però adesso quello che ci importa a noi è che abbiamo capito che il nostro programma scarica praticamente le foto e datemi il tempo di analizzare tutto questo papardello che ha tirato giù che poi se andiamo a analizzare a vedere le foto sono le stesse che io ho vedete queste qua tra l'altro sono piccole quindi sono miniature quanto pare qua invece ah ok ho capito adesso forse sono ah ok ok perfetto ho capito sono troppo intelligente ragazzi sono le live foto salvate come immagine singola molto carina bene possiamo tornare indietro ovviamente col tasto indietro ok e andare a scaricare altre cose ma lo vedremo nella prossima puntata vede come promesso andiamo a vedere l'ultima parte vediamo i prezzi ok se conviene o no dunque abbiamo per la licenza singola diciamo singola nel senso annuale vedete questa abbiamo il 39,99 che è scontato quindi vuol dire che possiamo utilizzare dispositivi limitati praticamente su un Mac solo però diciamo che per 39,99 euro la non è tanto invece abbiamo la licenza illimitata sempre su un solo un Mac ok per Mac per un computer solo per Windows a 50,99 euro ma questa è per la vita quindi potete acquistare questo pacchetto per sempre oppure abbiamo questa famiglia che ci permette di andare a vedete 5 PC e Mac quindi possiamo utilizzare se abbiamo da condividere con i nostri figli con le nostre moglie con i nostri fidanzati possiamo utilizzare questo pacchetto a voi la scelta conviene investire in un programma del genere oppure continuare a pagare il cloud questa è una bella domanda concludendo diciamo che questa applicazione può essere molto utile come ho detto all'inizio per fare backup dei nostri dati sicuramente è anche rivolto a tutti ma soprattutto a quella fascia di persone che non vogliono fare dati su iCloud quindi far back up su iCloud ma è consigliato a tutti io in primis lo userò moltissimo perché per svuotarmi un pochino la memoria del telefono e anche di iCloud in caso diciamo si tratta di foto ovviamente video parlo di questo è molto utile ok ma anche per fare per dire un backup dell'agenda della rubrica e fare un po' d'ordine ok poi sbatti la sopra quindi cosa dire vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale se è piaciuto questo video mettete anche un like e azionate la campanella per avere le notifiche dei prossimi video che posterò questo è il primo episodio rumori permettendo ne farò altri quindi vi ringrazio per aver seguito questo video un abbraccio da Gennaro un abbraccio che ci sono